il paese dei balocchi solo su climbing radio bene eccoci tornati qui al paese dei balocchi siamo sempre su climbing radio e chi ci ha seguito nella scorsa puntata ha già avuto modo di conoscere il nostro ospite che qui ancora con noi è che è il grande massimo malpetti ciao malpe lo zio almeno lo chiamiamo è stato lo zio per noi per me il baistra franz spadea tanti altri che ci ha accompagnato davvero a fine anni 90 inizio millennio e sta sei stato un po il nostro zio in tutti gli effetti nel portarci a del boulder bene 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 quindi grazie malpe di essere qua con noi e chi ci ha seguito la scorsa settimana sa che abbiamo parlato di arrampicata di boulder specialmente alla luce della dell'esperienza ormai quarantennale sia di arrampicatore alpinista boulderista e ancora di più fotografo fotografo artista che ha documentato con anche tanti premi premi il boulder appunto e l'arrampicata in generale con ormai appunto ripetiamo da tanti anni le tue foto sono stati poster del mello blocco le prime maniere prime locandine del mello blocco hanno vinto premi sono state intanto tanti articoli ho avuto l'onore anche proprio di poterne mettere diverse nei miei libri sia quelli di yoga che per me è un grande onore è sempre stato un piacere mettere proprio perché come raccontavamo l'altra volta sono davvero anche esemplificative non soltanto del documentare salite documentare il bello dell'arrampicata dal punto di vista di gesto sportivo ma nell'essere arte arte dove si evince la personalità il carattere del climber fotografato ma anche la tua visione il tuo modo di intendere vivere il la fotografia come forma d'arte ed è quello di cui abbiamo discusso abbiamo iniziato a discutere comunque nella nella scorsa puntata e parlando anche un pochino di come la fotografia che è fondamentale ancora più fondamentale nel giorno attuale anche nell'essere diventata per certi versi anche più facile con gli strumenti i mezzi da più facile più alla portata di tutti come strumenti da poter fare ma che poi chiaramente il momento in cui una cosa è accessibile e l'arrampicata stessa ne è un altro esempio chiaramente rischia di attirare così tanta massa dal rischiare di perdere certi certi valori o certe prospettive e abbiamo discusso nella nella scorsa puntata proprio di questo anche di come la fotografia è una forma una forma d'arte quindi io ti vorrei chiedere per ripartire da lì alla luce del fatto che adesso ci sono tantissimi che si lanciano lanciano nel mondo della fotografia del video anche del video chiaramente dell'arrampicata tu dalla tua esperienza di 40 anni e di professionista di diciamo fotografo che è stato ampiamente riconosciuto ti chiedo che consigli hai da dare ai ragazzi da tutti i punti di vista per davvero trovare il loro modo di esprimersi attraverso una foto d'arrampicata ma allora guarda io non voglio in qualche maniera dire come bisogna fotografare quello che posso dire è che la fotografia per quanto riguarda il mondo avrampicata si divide nella fotografia di cronaca e quindi quella che ci aiuta a identificare un periodo un blocco una via e quindi la performance e poi la fotografia vera che è quella che io intendo specificatamente sulla rampicata la prima cosa che mi viene in mente come consiglio è non essere dozzinari cioè cercare in tutte le maniere di trovare la foto scattare tanto sicuramente ma cercare di aprire a prospettive nuove diverse perché è solo così si riesce a creare quella fotografia che io intendo d'arte e cercare di dargli un senso da un punto di vista estetico personalmente per esempio ma è un problema proprio di filosofia che è quasi una filosofia di vita non uso per esempio il teleobiettivo che mi dà quasi l'impressione di costringere dentro quel rettangolino immagine io amo tantissimo il grandangolo perché apre proprio alla luce all'immagine posso stare molto vicino all'arrampicatore quindi cercando di coglierne proprio all'essenza e questo vale anche e qui tocco un punto importante per la fotografia che noi facciamo con i telefonini per esempio perché nessuno ormai va in giro con la macchina fotografica a meno che non debba non debba essere sul pezzo di un progetto e quindi fare una cosa importante ma io stesso col mio telefonino fotografo tantissimo quando vado in giro anche lì andate c'è una piccola opzione che vi apre l'apertura del telefono grandangolare e scoprirete come un certo punto le prospettive si aprono tantissimo questo è il consiglio massimo che posso dare poi ognuno è chiaro fotografa come vuole come come si sente esatto posso solo dire questo ecco intanto ho fatto vedere sottofondo alcune delle tue foto appunto in cui anche questa visione di insieme il diamante di dream time con un grandangolo lo ha aperto tantissimo e l'arrampicatore quasi è inghiottito da questo blocco e se si è un po tutta la mia pioggia di fotografia e questo è dove c'è anche un tutt'uno come raccontavamo anche l'altra volta e solo si vede in questa immagine ma in tutte quelle che ho fatto vedere anche in questo ovviamente che ha vinto premi importanti in tutte queste vediamo che c'è sempre una contestualizzazione anche questa qua è esemplificativa del di tutto non solo del l'exploit la via e l'arrampicatore ma qua la si vede c'è la roccia c'è il cielo c'è il bosco dietro quando il frankenjura con enrico su questa via dove si dà l'idea di un qualcosa di più ampio dell'arrampicata che non è andare di fare quella via stampare il tiro fare il grado bensì è un'esperienza dove c'è un coinvolgimento anche del climber del fotografo in tutto quello che è l'ambiente circostante è importantissimo è essenziale perché sennò tutto si 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 racchiude una cosa che non poi alla fine non avrà un grande seguito sicuramente è un po quello che accade un po di più spesso più facilmente oggi cioè vedi delle foto dove vedi il climber magari lì su quel masso su quella via durissima o comunque su quel blocco estremo però non si capta questa immersione in un ambiente non si capta questa partecipazione che va al di là del del fare la prestazione è un pochettino quello che vedo io tante volte nelle immagini che non mi danno di più se non l'aver documentato il tot avampicatore si è proprio è proprio la cronaca spicciola è anche un po questa cosa dell'esibizionismo ma questo è un discorso che vale in generale per i social per qualsiasi cosa noi postiamo su su instagram su facebook e dove dobbiamo essere in qualche maniera produttivisti da dal nostro viaggio a qualsiasi cosa che facciamo nella vita certo se queste se queste espedienze vengono donate regalate in un amore in una maniera più naturale semplice e legata alla natura tutto diventa molto più interessante certo questo senso ripeto e autofoto che nick cedia si fa e che si faceva i tempi il grande michele camminati quando viaggiava solitario a fontaine lo le trovo bellissime perché è proprio raccontavano un itinerario che loro facevano in maniera solitaria raccontandosi e se si è assolutamente sì e si traspariva completamente da queste loro da queste loro immagini quindi appunto quello che dicevamo il saper trasferire qualcos'altro che non sia solo cronaca e che è la come fa la differenza tra chi può di su un fotografo e chi di un documentatore attraverso le immagini ripeto tra tra chi racconta di uno scrittore ad esempio e chi semplicemente mette giù delle informazioni no anche perché un tempo potevamo raccontare delle cose esclusive e un tempo sto parlando veramente quel nuovo mattino e perché c'era un esplosione di novità incredibile oggi come oggi è difficile trovare delle strade alternative alla noia del raccontare una performance quindi un tempo era era tutto diverso mi viene in mente che io ho scritto ultimamente è uscito da qualche anno un libro niente come allora dove racconto una sorta di libro autobiografico dove non è che l'innalzo io personalmente ma racconti personaggi attraverso le mie avventure e niente come allora significa proprio questo che in fondo un tempo c'era un mondo da scoprire oggi purtroppo c'è poca roba da scoprire quella poca cerchiamo di raccontare rivitalizzarla in maniera giusta e sai è vero è vero perché chiaramente tante cose sono state esplorate ormai in 40 anni di arrampicata diciamola quasi sportiva e così via quindi c'è tanto tanto chiaramente tanti tanti cammini sono già stati esplorati però anche vero che più che altro secondo me ci sono tante prospettive che ancora da esplorare faccio un esempio nel boulder ad esempio che non ha una strada che è quella a cui o mai quasi unicamente mi sto dedicando io anche soltanto mescolare avere un approccio esplorativo al boulder che non vuol dire soltanto esplorare aree nuove ma iniziare a farlo in contesti dove magari sei devi camminare per qualche centinaia di metri di dislivello qualche ora dalla macchina il che ti obbliga anche ad andare per me è normale perché quando iniziato era così però ad avere un certo minimalismo nel materiale che ti porti a differenza di adesso dove si va a due metri dalla macchina perché bisogna avere 15 pad per provare qualunque cosa invece lì sei lontano hai un'ottica quasi più alpinistica anche nel boulder perché vai dove non puoi neanche distorci sulla caviglia perché devi far venire a prendere dall'elicottero ma lo devi devi andarci però con massimo un pad perché sennò capito ci sono questo è uno dei tanti esempi per un esempio di una un'esplorazione nuova che è vero fai sempre boulders e sempre ad esplorare un'area però in un contesto che in pochi i pochi le nuove ci sono sempre mi ricordo cos'è room and room and the grange il francese che era andato a fare questo mi pare fosse lui ormai 6 7 anni fa mi ricordo che era andato a fare questo boulder su uno dei ghiacciai del monte bianco camminando sul ghiacciaio e c'era questa unica gemma che usciva dal ghiacciai per fare un boulder rimanendo nel campo del boulder che sembra la cosa più consumistica ormai e più quindi è verissimo quello che dice chiaramente le possibilità alla portata sono state sviluppate ormai tutte però ho qualche prospettiva proprio curiosa secondo me ed è il bello della vera esplorazione che c'è d'altra parte possiamo dire in maniera forse anche un po egoistica questa idea di sport nuovi a due tre ore dalla macchina anche per fare magari solo un diamante o qualche blocco crea una sorta di selezione natuale è fantastico nel senso che sei che mi porta anche le persone che davvero ci credono e vivono qualcosa in più che non è l'andare chiudere il blocco in una cresciano che ormai cresciano il ticino sono per quanto meravigliosi sono dei supermercati del boulder dei luoghi quindi con i figli ma ormai davvero è gradata e ma hai sviluppato un posto fantastico sopra morbegno se non erro al lago lago zalcone esatto dove ho mancato un appuntamento e andremo 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 e questo è un esempio di come si possa davvero cercare l'avventura in ambienti selvaggi e solitario si uguale è stato per me una un cammino normale anche perché per me l'arrampicata è arrivato dall'amore per la montagna e andando avanti con gli anni anche ormai sono arrivato a più di trent'anni di arrampicata vedo che il cerchio si sta chiudendo mi riporta da dove tutto è iniziato congiungendo quello che sono stati i miei 25 anni da boulderista arrivando a ritornare al camminare in montagna che è da dove è nato tutto e quello è stato uno dei tanti perché non ho tanti luoghi ancora da andare a vedere simili in cui ho trovato davvero degli stimoli nuovi sì sì anche se poi vada io ogni tanto faccio questa riflessione sugli ambienti naturali e outdoor quindi queste cose bellissime parla pensando alle grandi palestre che ci sono oggi che sono delle robe fantastiche enormi e ti dico la verità io a volte spesso mi capita di entrarci di starci dentro e di dire cazzarola io qua ci potrei stare ci potrei vivere dentro qua perché proprio questa concorso bellissima e mi è capitato per esigenze quando poi c'era un sole pazzesco e bellissimo di andare a chiudere in alcune palestre milanesi enormi e di divertirmi quindi c'è per lo spazio davvero per per tutto quindi anche anche l'esperienza indoor dovuto mente purtroppo vedo che moltissimi di questi giovani dentro le palestre indoor dove fanno bulldere corda diventano un pochettino come prenotare un'ora di tennis e vivono lì dentro senza sapere che fuori c'è un mondo incredibile assolutamente della roccia ti dà un'emozione una gioia sì e tante volte chi va fuori che poi va sempre in quei soliti luoghi sia fare bulldere che in falesia purtroppo quello che rischia di capitare è vivendo quella sorta di omologazione massificazione in un ambito indoor che ripeto non è legato all'indoor è legato al non saper poi trasmettere quello che invece è stato il fatto che l'arrampicata è sempre stata anticonformismo rispetto agli ideali della società comune chiamiamola il fatto poi c'è il rischio che anche sulla roccia cosa che vedo io purtroppo ci sia l'opposto cioè non sia un modo per riscoprire che l'arrampicata non è omologazione ma è una via anche personale ma si rischia che avendo conosciuto purtroppo solo quell'aspetto in indoor lo si trasporti poi in outdoor e questo è un punto che tanti stanno evidenziando e stanno chi come noi magari ha avuto la fortuna di vivere l'arrampicata da tanti anni e infatti la che volevo parlare con te perché la fotografia in qualche maniera mi riporta a una piccola missione che è quella di regalare immagini outdoor in ambienti selvaggi cercando di indurre le persone a vivere quelle esperienze all'aria aperta in posti certo assolutamente assolutamente e guarda proprio partendo da tutto quello che abbiamo detto finora è alla luce della tua grandissima esperienza anche per aver vissuto avendo iniziato a scalare nel 75 hai vissuto il nuovo mattino hai vissuto gli ideali del nuovo mattino del sassismo hai visto come poi dopo si sono trasformati in arrampicata sportiva e cosa ha comportato io ho iniziato a scalare nel 93 mi sono trovato immerso in un mondo in cui forse l'arrampicata sportiva stava già iniziando una fase un po' chiamiamola di sterilità di cui io non ero consapevole perché iniziava in quel momento però davvero io stesso nella mia nella mia attività che era principalmente falesistica ok ti ritrovi però avvocato appuntato in un mondo dove ciò che contava era il grado era la prestazione era un periodo in cui ci si sentiva autorizzati a bricolare le vie per trovare la difficoltà c'è stato un periodo che poi a posteriore anche altri climber più già più esperti come esperienza anni di esperienza di me hanno descritto un pochino come un periodo di sterilità un po di mancanza di prospettive e alla fine degli anni 90 diciamo alla fine dico perché è quando è diventato un po di dominio pubblico è stato proprio il boulder nella sua rinascita nel suo rispetto a quando era praticato prima del sassista ancora prima da john gill e così via è stato un po il boulder a dare quella quella nuova scintilla nel trovare la creatività una visione dell'arrampicata anche più giocosa più di esplorazione personale più di connessione con la natura che quella in cui tanti ci siamo riscontrati ci ha portato a staccarci un po dal mondo della falesia in quella sua sterilità che aveva guadagnato poi anche qua il boulder è evoluto e io ho un po l'impressione adesso anche con l'esplosione la massificazione e così via che si stia rischiando specialmente nel boulder di ripiombare un pochettino esattamente in quella sterilità di obiettivi di prospettive che caratterizzava l'arrampicata sportiva negli anni 90 tu che è una visione ancora più ampia perché hai vissuto anche il primo mattino e il nuovo mattino cosa ne pensi un pochino cosa cosa come matito quello che sta succedendo ti posso raccontare innanzitutto io ho una decina di anni fa occhi avevo chiuso con la rampicata questa la dice lunga ma non perché avessi avuto infortuni o cosa del genere ma non riuscivo più a starci dentro cioè andare nelle palesi andare nelle palestre indore era un supplizio di rapporti interpersonali davvero difficili dove ti squadravano dalla testa ai piedi dove se non facevi quel grado eri poveraccio dove all'interno delle palestre era importante essere vestiti in una certa maniera e un sacco di altre considerazioni mi hanno portato a chiudere con l'arrampicata ma proprio chiudere nausea totale per me era chiuda la storia e come si è riaperta è proprio l'idea di come vivere una nuova atmosfera ti porti a riaccendere quella piammella che rimane sempre soppita ma sempre accesa ed è stata incredibilmente la sicilia dove mi sono catapuntato in un ambiente totalmente fuori dai canoni nostri al nord dove veramente tanto sono pochi arrampicatori e quindi non c'è questa foga e questa esaltazione e lì ho ritrovato magicamente la voglia di ritornare a scalare sia sui blocchi che sulle vie grazie appunto agli amici johnny e marco culeo ma al di là di quello è di ritrovare l'essenza la tranquillità la pace della capitata senza entrare in quelle dinamiche i tuoi meccanismi incredibili che ti tritono certi titi svalvolano fuori oggi o sto ritornando ad arrampicare sono credibilmente alla mia età maturato ancora di più nel senso che cerco di starci dentro nonostante comunque l'ambiente sia ancora abbastanza bello saturo ma con una visione diversa è chiaro niente come allora non ce n'è quindi è così cioè la facciamo si riescono forse quando si esce un po da certe logiche si intravedono anche quelle che sono stati i motivi che ti che hanno portato tutti noi all'inizio ad amare l'arrampicata io lo capisco bellissimo quello che dici perché anche sto vivendo una sorta di nuova vita da un annetto questa parte ad avere i miei progetti bulderistici remoti però ho ritrovato il mio primo amore per l'arrampicata che era l'idea di fare un'ottica più alpinistica andare a far vie lunghe stare nell'ambiente dove però necessariamente mi rendo conto anche dove un peso importante lo gioca la solitudine l'essere un po più da soli quindi per certi verso come poter magari essere per te in sicilia che sei tornato in un contesto che per certi versi nell'evoluzione era rimasto un pochettino perché era nuovo un po quello spirito che al nord c'era anni fa appunto forse si possono individuare per l'arrampicata dei percorsi un pochino per certi versi separati e paralleli cioè ci sarà un'arrampicata in forma massificata omologata che andrà avanti nel si svilupperà partendo dall'indore condizionerà parzialmente l'outdoor e poi comunque ci sarà però sempre spazio ed è la cosa bella per chi vuole viverla in un certo modo principalmente outdoor e comunque mantenendo in vita certi ideali certi modi di intenderla si già già tantissimi anni fa in tempi non sospetti Simone pedeferri definiva e oggi è ancora più grande l'arrampicata come una fast food dove tutti ci si buttavano dentro e non senza creare delle storie personali importanti ad altra parte credo che siano anche i tempi io penso che noi giovani 40 anni fa in qualche maniera arrivavamo il buddere il sassismo dedicando i vecchi che vivevano la lotta con l'alpe il cai è lo stato delle cose la vita comunque è questa bisogna saper prendere le cose buone e cercare di fare le proprie senza rompere troppo i coglioni agli altri ma sai è l'evoluzione comunque c'è sempre un'evoluzione una trasformazione io quello che dico sempre è tutto può cambiare uno si può identificare o meno in un nuovo modo di vivere una disciplina e rimanere magari nel suo piccolo orticello perché crede in quello la cosa che uno si auspica a livello più generale che comunque se l'arrampicata si trasforma cambia cambia visione però mantenga dei contenuti non diventi semplicemente un'attività superficiale come d'altronde anche il modo di viverla e anche altre discipline sportive dimostrano che magari uno sport magari bellissimo poi dalla massa viene preso unicamente nel suo lato più superficiale quindi il bello anche di queste trasmissioni e per per chi vuole anche per far presente che specialmente l'arrampicata ha tanto da dare quindi non è soltanto andare tirare due prese come può essere per altri andare a tirare due calci al pallone e basta e finisce tutto lì ma ha tanti spunti da dare tante volte tante persone che si trovano immersi in un contesto massificato magari semplicemente non ne sono consapevoli sapere che possono anche andare esplorare certe cose di letture di esperienze poi calarle nella loro propria attività magari da tanti un modo di non di uscire da di chiamiamola da quella che rischia di essere un'omologazione dell'arrampicata si guarda io l'ultima cosa posso dire i testimonial dell'arrampicata i grandi arrampicatori di oggi e anche quelli di ieri hanno una grande responsabilità ma proprio perché sono visibili ovunque e le loro performance fanno notizia o raccontano delle storie ecco io credo che loro dovrebbero in qualche maniera esporsi nell'indirizzare le nuove generazioni allora a un'arrampicata più più ecologica più attenta all'ambiente ma anche dal punto di vista dell'etica no e questo secondo me avviene poco vuoi per problemi legati agli sponsor a delle dei soldi che devono comunque intraprendere per per starci dentro però forse questa potrebbe essere l'unica possibilità per portare le nuove generazioni a vivere l'arrampicata tutte le sue forme in maniera più giusta ecco questo è un accordo un accordo infatti è diciamo io mi irrito molto quando vedo climber di calibro mondiale di fama mondiale ad esempio a essere lì a pubblicare un video in cui sottofondo nel mezzo del bosco si sente la cassa che spara la musica al massimo livello come se fossero in palestra che è una cazzata come cosa però dall'idea di un tutti dopo vedendo quello pensano che sia normale che di andare in mezzo a un bosco con la musica che di per sé è una cosa che a me da fastidio anche se lo trovo in una città uno che ascolta l'alta musica in giro che tutti possono sentire la musica che piace a lui immaginiamo un ambiente naturale ripeto ed è un aspetto etico minore però purtroppo una cosa che capita una cosa che spesso si vede che chi è sotto i riflettori lui stesso non ha un'etica e spesso una una conoscenza anche storica dell'arrampicata della sua filosofia che poi dopo lo porta a diffondere messaggi che sono non corretti e questo purtroppo si vede sempre di più e tanti per fortuna anche tanti lo stanno evidenziando stanno anche evidenziando come ormai il culto del day like dei social stanno portando a dimenticare l'importanza delle prestazioni ho visto un poster dei fratelli più recentissimo che parla di questo il caso di tene andrà dal fatto che ha perso che ha interrotto delle collaborazioni con gli sponsor e così via ne è un altro per fortuna diciamo ha ancora attraverso anche i social stanno venendo fuori comunque delle prime prese di posizione anche di climber importanti nel far presente che tutto sta prendendo una deriva troppo superficiale nel comunicare insomma c'è ancora speranza caro albi assolutamente puoi sentirlo sentirlo da te che appunto hai questo esperimento che hai conosciuto realtà in molti mi conosco io sono una persona abbastanza provocatoria insomma ho tanti amici e tanti nemici però su alcune cose davvero prendo la posizione senza paura e quando la prendo spesso molti si diventano fermanose però non mi fa paura nel senso che se devo dire qualcosa su come bisogna vivere in una certa maniera l'arrampicata la dico è un mio pensiero assolutamente è anche una voce giusta in questo essere tutti bella frate bella bella gritti o delle robe del genere c'è poco c'è poco scambio di idee capito se appena appena tenti di intavolare un ragionamento un discorso sul tema è tutto si risolve in una frasetta scritta sotto in un post e non c'è questo interscambio che può essere molto importante certo per tutti no perché poi alla fine si riesce ad avere nuove idee nuove possibilità di scoperta assolutamente assolutamente ma siamo positivi da che comunque bene o male si vedono dei germini tanto di qualcuno che dice la la propria anche per rimettere le cose in ordine e ok malpe guarda direi anche questa volta il tempo è finito potremmo tanto sappiamo che noi potremmo andare avanti a discutere per giorni e giorni quindi io ti lascio andare ti ringrazio ancora bellissimo per questi i tuoi due interventi edifici ha parlato di tematiche molto molto belle quindi grazie malpe grazie saluto tutti gli amici climber buoni e cattivi tutti quanti esatto esatto anche noi i ragazzi e le ragazze che ci seguono qui su climbing radio sperando sempre che di raccontare gli storie parlare di argomenti che possono in qualche modo essere per loro uno spunto di riflessione e quindi mi do appuntamento alle prossime puntate del paese ai barocchi sempre per parlare di boulder arrampicata a 360 gradi qui su climbing radio grazie